Anche quest'anno, nella suggestiva atmosfera della Cattedrale di Sant'Andrea, Amalfi canta il Natale. Giunta ormai alla sua ventiquattresima edizione, la rassegna di cori polifonici animerà queste festività natalizie in uno degli scenari più belli della costiera amalfitana. Ben 14 gruppi musicali, provenienti da ogni parte della campania, allieteranno gli animi di grandi e piccini, nella due giorni dedicata alla musica, ovvero il 29 e il 30 dicembre. La prima giornata, con inizio alle ore 18, prevede la partecipazione del coro Cantate Domino di Amalfi, del coro Pina Elefante di Atrani, dell'ensemble Sette Ottavi di Minori, del coro Amici della Musica di Sant'Arsenio, del gruppo In Coro di Nocera Superiore, dei Vox Aurea Vocal Ensemble di Salerno e del coro Gospel Voices di Afragola. Venerdì 30 dicembre chiuderanno la rassegna il piccolo coro del Duomo di Amalfi, il coro Ave Maris Stella di Minori, il coro Insieme per Caso di Baronissi, il coro Armonia Nova di Torre del Greco, il coro Pueri Cantores, Don Antonio Izzo di Sorrento, il coro Teen Junior Chorus di Baronissi e il pop-core di Salerno. Durante la rassegna musicale sarà consegnato anche il premio Siate Costruttori di Dialogo, Amalfi ed il suo apostolo Ponte tra Oriente ed Occidente. Il riconoscimento è stato assegnato quest'anno a due personalità di rilievo del panorama sociale, ovvero il comandante Salvatore Barra ed il maestro di presepi Ezio Lucibello. Entrambi modelli di riferimento soprattutto per le nuove generazioni, per i valori di onestà e trasparenza a cui si ispirano. L'evento musicale sarà trasmesso in diretta streaming dal centro televisivo Cattedrale di Amalfi ed in digitale sui canali della nostra emittente, ovvero RTC Quarta Rete al canale 654 a partire dalle ore 18.